Buongiorno, buongiorno Regione Lazio Vito, buongiorno a tutti quanti, sono un po' nervoso stamattina, un pochettino così, perché allora io dico sempre, dico sempre Zio Vito, no, che ognuno, questa città è diventata, no, proprio libertinaggio, libertinaggio assoluto, diciamo, ognuno fa chi cazzo vuole, non c'è nessun controllo, allora dico io, ma quando uno, diciamo, guida e ci ha ragione, no, c'è questa usanza da noi, che chi ci ha torto, comunque ti ha una mano a fangolo questi a prescindere, tu già sai che se scende la macchina e tu dici a basso e tu già ti sei picciato a fangolo, gratis, che non glielo hai chiesto però se te lo danno perché non accettare quando è gratis è gratis però non è corretto, diciamo, no, perché se tu hai torto è sbagliato, poi se uno si mene contro mano glielo fai notare e vi spiego pure dove, alla discesa di via Anzio, quando si, ecco, quando poi si vuole andare al conservatorio, no là ci sono delle strisce pedonali fatte a cazzo, come tutte le cose che fanno, che fanno cagare, che fa il comune di potenza, no, allora quelle strisce praticamente sono a un certo punto per fare le strisce pedonali che ci sono anche un po' più avanti, un po' più indietro, c'è un varco e le macchine si buttano là per andare verso il conservatorio di musica, ora chi viene dal conservatorio si trova una macchina praticamente di fronte perché non vogliono andare a fuggire, tutto di via della fratellanza attiva, diciamo, e tornare indietro ecco, allora tu che vieni di là, pezza di merda che non sei altro, perché queste persone, lo so, la merda serve proprio a congimare lo so, ma loro non servono neanche un beccine, o meno serviranno come congime quando se ne andranno a quel paese allora uno, ma erano dei giovani, ho detto, vai ragazzi, ma non si fa così, io ne ho detto, se non vuoi che inserire da parte ne ho visto il suo vita vecchio, allora il suo vita, dalla sua, come dire, filosofia, chiamiamola così dalla sua esperienza, ha detto, ragazzo mio, io sono stato quello che tu sei, ma non so se tu sarai quello che io sono a tutti quanti voi, a vostri, a Gagliardi e Toste, in casa vostra, attenti quando tornate a casa se tornate, se arrivate, e se no, congime, fur vanno a Zalpandesto e vanno a Pesciangone Grazie